Il 13 settembre riaprirà la scuola. L'obiettivo della Regione è quello di ripartire in sicurezza e in presenza. Nel frattempo, a livello nazionale, si discute degli obblighi vaccinali per quanto riguarda i docenti. Si è in attesa delle nuove disposizioni dopo la conferenza Stato-Regioni per evitare di tornare in DAD nel prossimo anno scolastico. La data della riapertura è ufficiale, il 13 settembre. Oggi abbiamo, tra l'altro, nell'ambito della conferenza Stato-Regioni, un ulteriore incontro con il Ministro per vedere quali sono le ultime indicazioni per una riapertura in sicurezza. Nel frattempo, come Regione e io come Assessore della pubblica istruzione, sto in contatto con la TOZZA, che è il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, e le varie parti per cercare di far rientrare i ragazzi in sicurezza. Per quanto riguarda la vaccinazione, stiamo sensibilizzando tutto il personale a vaccinarsi. Abbiamo una percentuale dell'82% per quanto riguarda la prima dose, quindi molti non hanno fatto la seconda. Quindi sicuramente ci saranno delle giornate per far sì che tutti si possano vaccinare. Come ho detto, attendiamo oggi le ulteriori indicazioni. Come Regione, tra l'altro, abbiamo assegnato dei fondi ai vari istituti scolastici per l'acquisto dei termoscanner in modo che all'ingresso in via preventiva si possa fare un controllo della temperatura corporea. Come dicevo, stiamo aspettando al riguardo le ulteriori indicazioni del Ministro Bianchi e dell'intero Governo. Però io ritengo che sia di fondamentale importanza la vaccinazione perché purtroppo questa variante Delta sta facendo aumentare casi. E quindi per tornare in presenza e in sicurezza, e quello è l'obiettivo, e comunque quando stabilito sicuramente l'unico rimedio è la vaccinazione. Voglio ricordare che con la DAD dell'ultimo anno scolastico ci sono stati tanti disagi nei ragazzi e quindi vogliamo evitare di ripetere lo stesso anno, bensì un anno scolastico sicuro con i ragazzi in presenza perché sicuramente la didattica in presenza ha dei vantaggi molteplici per quanto riguarda la formazione dell'istruzione dei ragazzi.